Controlli alla stazione di Pesaro, arrestato 26enne con 15 grammi di cocaina. Si raccolgono idee e progetti per il lungomare pesarese, pronto a cambiare volto. Biancani e Pesaro 2024 nel mirino di Fratelli d'Italia e Lega, il botta e risposta tra opposizione e maggioranza. Veleno nel torrente di Cantiano e strage di pesci, i colpevoli restano ignoti. Cattolica Gabice e Gradara sempre più collegate con l'aumento delle corse di Adriabus. Un saluto a tutte voi carissime telespettatrici e a tutti voi carissimi telespettatori, ben ritrovati a questa edizione serale di Rossini News, oggi mercoledì 21 agosto 2024. Apriamo il nostro telegiornale parlando dei controlli effettuati da parte dei carabinieri nelle zone della stazione di via Montegrappa a Pesaro, che hanno portato all'arresto di un giovane 26enne originario della Guinea, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. Il giovane, già noto alle autorità giudiziarie, aveva una procedura di espulsione dal territorio nazionale, attualmente in attesa di ricorso. Portava con sé 15 grammi di cocaina divisa in due dosi e due grammi di hashish, che nascondeva nella custodia degli occhiali. Dalla stazione spostiamoci verso il lungomare di Pesaro, che si prepara a cambiare volto. Visto che l'amministrazione comunale ha annunciato che è pronta a raccogliere idee e progetti per rinnovare il viale. Il lungomare pesarese si prepara a cambiare volto in maniera definitiva. Dopo vari interventi avvenuti nel corso degli anni, che hanno riguardato in particolar modo il tratto di Viale Trieste, l'amministrazione comunale ha annunciato che si prepara ad avviare una raccolta di idee e progetti per cambiare in maniera strutturale e definitiva l'area interessata, affinché divenga sempre più accessibile, vivace e moderna. Da qualche anno abbiamo iniziato a ripensare il modello del lungomare di Pesaro, cercando di sfruttare la sua pedonalità, in particolare nei mesi stivi, individuando degli allestimenti temporanei da giugno fino a settembre, fino alla fine di agosto, fino alla fiera di San Nicola, puntando sulla pedonalizzazione e sulla vivacizzazione di quella parte del viale. Oggi siamo arrivati al punto di pensare in modo strutturale a tutto il waterfront. L'idea è quella di lanciare nel periodo di autunno un concorso di idee, un concorso di idee rivolto a giovani professionisti, anche a meno giovani, agli studi di architettura, di ingegneria di Pesaro, della provincia, della regione, ma anche aperto al resto d'Italia, per ripensare il waterfront, tutto il lungomare di Pesaro, dalla palla, anzi da piazza d'annunzio fino al Moloco, a ripensarlo, cercando di trovare un punto di incontro anche tra interessi contrapposti, quelli che possono essere dei titolari degli stabilimenti balneari, piuttosto che degli alberghi, dei residenti, delle tante attività. Io penso che sia giusto continuare a puntare su una pedonalità di quel tratto di male, pensandolo sempre più verde, sempre più vivo, così come gli investimenti realizzati in questi anni hanno dimostrato di andare nella giusta direzione. Ripensarla in maniera definitiva, quindi iniziando poi per stralci, a individuare anche le risorse per riuscire a realizzare una riqualificazione, una rigenerazione verde con un arredo urbano diverso, un intervento di rigenerazione di tutto il lungomare per recuperarlo, per renderlo più offruibile, più accessibile e più moderno. Se dovesse servire una idea su come racimolare i fondi necessari al nuovo viale, una di queste potrebbe essere i 33 milioni di euro tra tasse, multe e oneri vari che l'amministrazione pesarese non riesce a riscuotere. Questi numeri presentati in riferimento al 2023 dal Revisore dei Conti, che evidenzia come purtroppo quasi 300 mila euro, sono ormai irrecuperabili e della difficoltà nel riscuotere i restanti. Basti pensare che tra Imo e Tari l'evasione si attesta appena sotto i 4 milioni e mezzo di euro e che di questi il Comune è riuscito a recuperarne appena il 17%. Stesso discorso per le tasse. Dei 4 milioni mancanti, solo il 16% è stato riscosso. Prosegue invece il dibattito anche questa settimana tra l'opposizione e il sindaco Biancani. Nel mirino questa volta Pesaro 2024 a parlarne i rappresentanti di Fratelli d'Italia e della Lega. Continuano gli attacchi al sindaco di Pesaro Andrea Biancani da parte dei componenti dell'opposizione. Il tema questa volta è Pesaro 2024, capitale italiana della cultura e le varie azioni condotte dal primo cittadino pesarese dal suo insediamento ad oggi che hanno portato Fratelli d'Italia e la Lega a parlare di pensionamento anticipato e mancanza di progettualità. Abbiamo parlato appunto di pensionamento anticipato di Pesaro città della cultura 2024 perché pare che il sindaco Biancani abbia in qualche modo sconfessato tutte le scelte strategiche operate dal suo predecessore sindaco Ricci in particolare riguardo appunto a Pesaro città della cultura 2024 e tutti quei progetti che in qualche modo rappresentavano il volano per la città di Pesaro sono stati miseramente bocciati. Mi riferisco in particolare all'allusfera che era questo grande palcoscenico che era collocato in questa piazza che proprio nel bel mezzo della stagione estiva, quindi fine luglio, primi di agosto è stato completamente smantellato. Quindi quello che doveva essere il centro focale del dibattito cittadino quello che doveva essere la sede di incontri o di eventi a livello nazionale e internazionale è stato miseramente smantellato in un momento in cui Pesaro raccoglieva anche molteplici turisti grazie al Russini Opera Festival, quindi poteva avere una fruibilità importante mentre nel periodo invernale è stato utilizzato a mezzo servizio. Questa è la prima bocciatura. La stessa sorte ha avuto anche il progetto della Sonoteca. Anche su questo progetto Biancani ha dichiarato di volerlo interrompere e ha persino dichiarato di voler la restituzione di questi 18 mila euro che costituivano un anticipo assegnato all'associazione. Un'ulteriore bocciatura è giunta anche in merito alla biosfera che pare avrà una diversa collocazione quindi quello che era il simbolo della città di Pesaro 2024 viene collocato altrove ed è risultato comunque un progetto deludente perché doveva essere anche questo un progetto di alta tecnologia di carattere interattivo che doveva interfacciarsi con il cittadino e con il turista per fornire informazioni sulla città per fornire informazioni e dare descrizione dei monumenti o dei palazzi storici della città si è rivelato uno schermo a 360 gradi che ripetutamente ripropone gli stessi video senza nessun tipo di interazione. Un inizio di legislatura scoppiettante che sembra più una puntata di scherzi a parte piuttosto che l'inizio di un progetto politico. Non solo lo scandalo dei quasi 600 mila euro destinati a due associazioni culturali no profit sui quali ancora persistono i silenzi non vedo, non sento, non parlo del vecchio sindaco e dell'attuale sindaco ma il nuovo sindaco ha deciso di impostare un programma a cominciare dalla smantellare tutti i simboli tutto quello che erano stati i progetti della scorsa legislatura una progettualità molto confusa una progettualità che ancora non vede neanche una sua efficacia e sui quali emerge tutte le incertezze del nuovo sindaco e tutte le criticità di una maggioranza fatta dagli stessi assessori. Accuse, quelle mosse dall'opposizione che trovano pronta risposta da parte del sindaco Biancani che così ha replicato ai nostri microfoni. Questo palco era stato montato proprio per riuscire a dare risposta a tutta una serie di eventi importanti organizzati durante il 2024 attualmente abbiamo recuperato il vecchio per lo sport che sarà quello lo spazio dove organizzeremo da qui in avanti quelle che sono le principali iniziative legate a Pesaro Capitale Italiano della Cultura però monteremo comunque un nuovo palco a breve in Piazza del Popolo proprio attorno alla biosfera perché riteniamo che tutta una serie di eventi minori, più piccoli possono essere organizzati anche nella piazza. Quindi non c'è stata nessuna volontà di smontare il vecchio palco cioè quello grosso che ha accompagnato fino adesso il Pesaro Capitale Italiano della Cultura non c'era un motivo politico per cui è stata smontata. È stato smontato perché comunque mantenere la montata aveva dei costi questi costi non erano come dire bilanciati da quello che erano i benefici anche perché il nuovo auditorium che noi oggi abbiamo recuperato consente di organizzare tutti quegli eventi che vogliamo organizzare e quindi da qui la scelta di smontare il palco che era stato montato appunto per l'inizio di Pesaro Capitale Italiano della Cultura. Per quanto riguarda invece tutto il tema della sollecitazione che ho fatto ai gruppi di opposizione di incominciare a occuparsi delle cose reali che riguardano i cittadini devo dire che è stata la mia una provocazione perché sono settimane che parliamo di cose che secondo me interessano ben poco alla gran parte di tutti i pesaresi oggi abbiamo dei problemi importanti e urgenti che dobbiamo affrontare. Dobbiamo affrontare il tema di dove portiamo i 100 posti letto legati alla salute mentale che ad oggi la regione prevede di portare tutti fuori dalla città di Pesaro il sindaco non può accettare una cosa di questo tipo e quindi chiede da una parte anche aiuto all'opposizione cercando di stimolarli ad occuparci di questioni e problemi reali. Per quanto riguarda il nuovo ospedale noi riteniamo che abbiamo sempre saputo che dal primo di ottobre partiva il cantiere chiediamo ai consiglieri di opposizione che fanno parte della stessa parte politica del governo regionale di darci delle risposte il cantiere parte o non parte. Andiamo ora a Cantiano dove l'impianto ittico regionale è diventato protagonista di una terribile notizia. Di fatto da quanto emerge sembrerebbe che qualche ignoto abbia avvelenato le acque del torrente causando conseguenze sulla flora e la fauna del corso d'acqua decisamente tragiche. L'evento rilevato dai tecnici della struttura a seguito di uno strano comportamento dei pesci ha infatti causato una vera e propria strage di quest'ultimi portando così all'addio degli esemplari riproduttori di trote e danneggiando gravemente altri animali. Sul fatto indagano al momento le autorità che cercano di ricostruire l'accaduto e risalire agli autori di un simile gesto. Intanto però il danno ai pescatori e alla produzione ittica resta notevole. Torniamo adesso a Pesaro per parlare di attività economiche in particolare modo della commissione che riguarda quest'ultime. Commissione pronta a riunirsi con una nuova presidente. Nonostante il mese di agosto sia ormai ben più che avviato le commissioni composte dai consiglieri comunali pesaresi sono in continuo lavoro. Alcune già si sono riunite più volte altre invece stanno per essere convocate a breve come nel caso della commissione per le attività economiche che ha visto la nomina di un nuovo presidente. Con una nuova presidente una donna perché in passato avevamo come presidente Lorenzo Lugli nella commissione abbiamo lavorato benissimo dove appunto spesso ci siamo confrontati su vari argomenti tra cui la CTE lo sviluppo economico quando ci sono stati le organizzazioni della fiera di San Nicola e quindi adesso ricominceremo la presidente Evelina Anniballi appunto questa mattina ha già detto che convocherà la commissione quindi siamo ben contenti di iniziare il percorso con i nuovi componenti della commissione 9. E dunque un cammino che prosegue quello dell'assessora Franco e Luci per quanto riguarda le attività economiche per le quali si è già posta degli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi innanzitutto devo sistemare la parte del mercato cittadino che abbiamo iniziato nella scorsa legislatura e dobbiamo riuscire ad arrivare a migliorare sempre di più perché comunque abbiamo tanti ambulanti che lavorano nell'ambito territoriale e che sono comunque tutte persone che hanno bisogno di aiuto anche perché in questi anni hanno vissuto il problema del covid il problema dell'inflazione e quindi dobbiamo risistemare la parte del mercato e questo poi ne parlerò chiaramente anche con tutta la commissione. Sicuramente metteremo mano a qualche regolamento che riguarda lo sviluppo economico e appunto anche cercare di incentivare e aiutare i borghi e le nuove aperture dei borghi con la quale mi sono già confrontata con il sindaco e poi mi confronterò anche con la stessa commissione e vogliamo anche cercare in qualche modo quei quartieri che rimangono più distanti dal centro o dal mare andare in aiuto appunto anche con degli sgravi fiscali maggiori per fare in modo che abbiano e continuino ad avere dei servizi. Altra cosa che mi è stata richiesta da una consigliera che abita nelle parti nella zona di Villa Ceccolini che mi ha fatto presente e che appunto in quell'area ci sono attività che hanno chiuso e quindi hanno bisogno dei servizi e quindi cercheremo magari forse questo lo dico così ma non so se ci riuscirò spero di farcela di riportare un mercato il lunedì mattina in quella zona che ad oggi non c'è più. Si incrementa invece il collegamento tramite trasporto pubblico che collega Cattolica, Gabice e Gradara grazie ad Adria Busse e ai fondi della Regione Marche. Vediamo il servizio. Gabice, Cattolica e Gradara sempre più collegate da Adria Busse che intensifica la presenza del trasporto pubblico specialmente in orario serale grazie a un bando della Regione Marche permettendo così di raggiungere ogni 30 minuti i tre comuni ad un prezzo calmierato. Come sappiamo è sempre più importante cercare delle soluzioni alternative per la mobilità e quest'anno grazie al bando della Regione Marche sul potenziamento del trasporto pubblico locale il comune di Gradara in collaborazione con Adria Busse ha realizzato un'intensificazione del servizio di trasporto tra Gabice Cattolica e Gradara su due direttive l'autobus 8081 e il 130 131 in questo modo ogni mezz'ora soprattutto per la parte serale quando diciamo in estate si concentrano gli arrivi e gli eventi anche qui di Gradara ogni mezz'ora sarà possibile con appena 1,60 euro da Cattolica da Gabice arrivare a Gradara e con facilità anche ritornare lungo la costa ricordo anche che il 130 131 è facilmente collegabile con il 125 che arriva da Riccione è un progetto biennale quindi anche il prossimo anno si realizzerà nei giorni di mercoledì giovedì e venerdì quindi abbiamo scelto apposta di non realizzarlo durante il weekend dove abbiamo già una florenza importante per cercare di invogliare le persone a raggiungere e a gradare anche in mezzo alla settimana dove abbiamo comunque degli eventi molto interessanti quindi Gradara crede molto nel sostenere questa viabilità alternativa soprattutto lasciamo i mezzi propri a casa usiamo il trasporto pubblico e vedete che sia economico ma anche divertente ci vediamo a Gradara in bus parliamo ora di eventi e di appuntamenti che ci attendono nella nostra provincia a partire da quello musicale presso il comune di Vallefoglia in programma sabato 24 agosto alle ore 21 nel suggestivo borgo di Montefabbri che ospiterà la storica band Roxy Bar Vasco Rossi Tribute per rivivere e celebrare la figura di Vasco Rossi e la sua musica per gli amanti del cinema invece l'appuntamento da segnare in calendario è quello con la fondazione Marche Cultura Marche Film Commission che vedrà il regista Marco Tullio Giordana martedì 27 agosto alle ore 20.30 al Cinema Solaris di Pesaro e alle 21.30 all'Arena BCC di Fano per un incontro con il pubblico e la proiezione del suo ultimo film La vita accanto Ricordiamo come sempre la possibilità di inviarci le vostre segnalazioni con un semplice messaggio Whatsapp digitando il numero 370 366 72 10 Concludiamo il nostro TG di oggi parlando di sport con Little Service che ha scoperto il suo destino in Coppa Divisione delineandosi sempre di più il calendario bianco-rosso il primo appuntamento con il torneo è fissato per sabato 21 settembre e ad andare in campo anche quest'anno sarà sempre l'Under 23 guidata da mister Del Grosso che sfiderà il Russi di Ravenna in trasferta nel turno per eliminare per quella che è una gara secca dove chi vince passa al turno successivo la perdente invece dovrà rivolgersi al ripescaggio per sperare di partecipare ai gironi dai quali usciranno le 32 squadre che si contenderanno la Coppa prima di concludere vi ricordo l'appuntamento con questa sera importantissimo da seguire si tratta di tesori nascosti Maria Ranalli poetessa la poesia rappresenta tutto il mio mondo rifugio valvola di sfogo parentesi dalle asprezze della vita ricerca di equilibrio mosaico di armonie ricordiamo Maria Ranalli una giovane romana con nonni materni pesaresi che trova ispirazione alternando lunghe passeggiate sulla riva del mare al riposo nel giardino della sua casa di Pesaro è autrice apprezzata di parecchi libri di poesie ed è spesso ospite di associazioni culturali in tutta Italia dove è invitata a presentare le sue poesie il nostro Giorgio Ricci ha cercato di scavare in Maria Ranalli per trovare la sorgente delle sue ispirazioni in un breve documentario girato nel 2023 e l'altro appuntamento con l'informazione sempre con me domani mattina vi accompagnerò come tutti i giorni di questa settimana in diretta alle 7.20 nella lettura dei due quotidiani regionali il resto del carriero e il Corriere Adriatico leggeremo insieme le notizie di giornata fresche e fresche appena uscite dalle nostre edicole Rassegna Stampa che ricordo poi è in diretta Facebook ed è replicata alle 8.20 alle 12.20 alle 14.20 e alle 18.20 era questa l'ultima notizia quindi di questo Rossini News di oggi mercoledì 21 agosto vi lascio il meteo e vi auguro una piacevolissima serata e come sempre non cambiate canale grazie a tutti